Guarda a noi che riconosciamo la nostra miseria. Questa è una popolazione devota alla Madonna, i pali sono dedicati proprio alla Madonna e nel nostro DNA. Con una funzione chiusa al pubblico ai fedeli, al quale ha partecipato il primo cittadino, che al termine della funzione religiosa, ufficiata dall'arcivescovo, ha deciso di compiere questo rito che la città del Palio ha ripetuto nei momenti di difficoltà. Dal 1260, che è un po' a mezzo fra la storia e la leggenda, la battaglia di Montaperti, e poi il 18 giugno del 1944, quando c'erano le truppe alle porte, è stato proprio portato, come oggi, la chiave della città alla Madonna perché ci protegge. Il tutto in una domenica di sole e surreale in una piazza del campo deserta. Siamo anche un popolo molto civile, come potete vedere, molto rispettoso della normativa, del governo, e quindi basta guardarsi intorno, non c'è nessuno. È strana, è strana come situazione. Diciamo che siano ogni tanto a questi momenti di minore affollamento dovuti alla stagione, nemmeno quando, poi di domenica specialmente fa space. Stavo camminando per qua, ho incontrato una ragazza con mascherina e tutto, mi ha salutato, io non so chi fosse, l'ho riconosciuta, perché poi ha tirato a dritto. E quindi c'è anche un po' questa paura anche dell'amico, che potenzialmente è un nemico, volendo, che non si sa mai. L'origine sono israeliana e noi siamo abituati alla situazione di emergenza, quindi bisogna stare un po' in silenzio e accettare che passerà anche questo. Arrivederci.